Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. La rotatoria di Nuova Olonio di Dubino per tutta la giornata odierna si è trasformata in un imbuto senza precedenti per i veicoli provenienti da tutte le direzioni. Da Chiavenna in uscita verso Colico in primis, ma anche dalla Valeriana piuttosto che da Colico in ingresso a Chiavenna e all'alto lario occidentale. Pomo della discordia, se così si può dire, le riasfaltature in atto sulla statale 36 nel centro abitato di Nuova Olonio che hanno comportato l'introduzione del senso unico alternato dal mattino con inevitabili lunghe code. Aggravate dal fatto che per lavoro in corso sulla statale Regina è stata chiusa nel tratto di telespazio fino al Ponte del Passo e la circolazione è deviata proprio sulla bretella Nuova Olonio-Geralario. Inevitabili quindi i problemi e al pari chiedersi se fosse opportuno procedere con il rifacimento del manto stradale in contemporanea coi lavori sulla Regina. Ma così è e i viaggiatori purtroppo non possono che armarsi di tanta pazienza. Nel frattempo gli interventi in corso lungo la statale 340 che attraversa il territorio della riserva del Pian di Spagna e del Lago di Mezzola stanno creando più di una preoccupazione al coordinamento, occhi sul Pian di Spagna, delle associazioni ambientaliste attive in questa particolare stupenda oasi naturale. In una nota stampa gli ambientalisti sottolineano di aver chiesto con una lettera ad ANAS come venga risolta la necessità di prevedere corridoi ecologici per la fauna e la flora fra le due aree della riserva separate dalla statale Regina perché scrivono Nella soluzione prospettata nel progetto i grossi mammiferi non troverebbero un passaggio sicuro da un lato all'altro della strada o meglio potrebbero passare da alcuni varchi su un lato ma poi mancando la continuità sull'altro lato correrebbero avanti e indietro alla ricerca dello sbocco con pericolo per tutti. È il nodo cruciale ma non l'unico rilevato dagli ambientalisti cui ANAS risponde sottolineando che i passaggi faunistici esistenti in quel tratto di strada vengono mantenuti e ampliati anche all'altezza delle piste ciclabili e come richiesto dall'ente parco aggiungono verranno installati lungo i quasi due chilometri del tracciato dissuasori luminosi e sonori al pari di quelli già presenti sulle statali 36 e 38 per segnalare il pericolo auto agli animali selvatici e impedire loro di attraversare al sopraggiungere dei mezzi.